Matteo Mauri, un momento di incontro del Partito Democratico con i soggetti legati al settore portuale. Perché questo incontro e quali sono le aspettative? A noi stiamo facendo una serie di incontri sul mondo dei trasporti, per cui con tutti gli operatori, soggetti di riferimento, quelli che si chiamano in inglese stakeholder. Lo facciamo perché già da tempo siamo impegnati in maniera molto decisa per dare un rilancio un po' a tutto il settore. Infatti quando si parla di economia reale, si parla molto anche di tutto ciò che concerne la logistica, il trasporto delle merci, dei passeggeri. Oggi, in questo caso, stiamo facendo un incontro sui porti, con tutti questi attori di cui parlavo prima, per ragionare con loro di quali sono le ricette per uscire da un momento molto delicato, che non è solamente quello della crisi, ma anche quello della necessità di riorganizzare il sistema dei trasporti in Italia. Molto spesso noi quando ci troviamo, non so, una merce che ci siamo comprati e ce la mettiamo nel frigo o a casa, non pensiamo a tutto il percorso che questa merce ha fatto. Invece questo è un passaggio molto importante, perché vengono molto da lontano e perché l'Italia è una nazione che esporta molto. Noi abbiamo una realtà straordinaria e incredibile che è quella dei porti italiani, per cui, come si dice, un porto naturale sul Mediterraneo, però servono investimenti, certezza delle normative e un sistema di trasporti che va oltre a quello del mare, ma che quando la merce arriva sulla terra, dove va? Ci va in treno, ci va con il camion e dove e con che velocità viene scaricata, che sono elementi determinanti. A volte sottovalutati, lo capiamo che la gente non si possa occupare di tutto, ma sono veramente essenziali anche per rilanciare i sistemi economici che ci sono nelle tante zone d'Italia che ospitano i porti. E a volte, guardate, non servono i grandi investimenti faraonici, saranno magari anche piccoli e medi investimenti che possano dare grandissimi risultati. E siccome noi siamo per le cose concrete, siamo qua a ragionare con loro sulle nostre idee, ma ascoltando molto gli operatori, chi vive questa realtà, per fare semplicemente le cose migliori possibili. Si sente spesso parlare di autonomia finanziaria, che sarebbe in grado di far rilanciare i porti, attrarre investimenti. A che punto siamo in Italia? Si è fatta una legge che ha dato una percentuale molto bassa, l'1% di autonomia finanziaria sulle accise, sulle tasse che vengono pagate nei porti, però con un tetto molto basso di 70 milioni. Noi lo consideriamo un primo passo, abbiamo messo il piede dentro la porta, adesso non dobbiamo farcelo schiacciare, bisogna allargare questa porta per dare la disponibilità economica ai porti, alle autorità portuali, per fare i lavori necessari. Per esempio, non troverai mai un privato che mette i soldi per costruire un frangiflutti, per fare una diga, perché sono costi molto alti che non ti danno immediatamente un riscontro. Quelli sono investimenti che devono fare i porti, perché vanno a vantaggio di tutti, a partire dagli italiani della nostra economia. E poi sicuramente servono per attrarre capitali, attrarre navi, anche grandi navi, che oggi pescano molto, cioè sono molto profonde e in tanti porti italiani non riescono a entrare. I container, per esempio, questa cosa spesso non riescono a farla. Allora noi dobbiamo in qualche modo fare degli interventi, che dando disponibilità economica ai porti e senza mettere altri soldi, ma movimentando l'economia possono rilanciare questo paese. Quando si parla di crescita si parla molto, molto di queste cose.